non ne abbiamo oggi oggi è 16 oggi è 16 maggio sono le 9 30 di sera praticamente io ho preso all'uscita Trani Capirro direzione Bari scendo all'uscita di Trani ho preso un cordolo dalla pista ciclabile praticamente all'uscita qui stiamo a un metro non si vede niente questo è il cordolo forse si riesce a vedere perché ho chiamato l'intervento dalla polizia municipale praticamente questa è la macchina mia chi è venuto per fare questi lavori praticamente ha omesso il minimo segnale di presentazione di questo ostacolo guarda una cosa da non crederci praticamente l'asfalto nero cordolo nero non c'è neanche una striscia bianca neanche un catarin frangente non c'è niente e lì sta la mia macchina praticamente sono le 9 40 del 16 maggio 2012 è intervenuta sì 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 ho disattivato il flash magari le fa lei e sto facendo sto facendo il video no no il video no ma può tenere però sì lo tengo diciamo per se fa le foto magari riprendendo anche